Santa Maria della Luce Maria obbedì senza indugio e partì quella notte con Giuseppe, tenendo Gesù tra le braccia. Se io avessi la fede di Maria, di nulla temerei né dell'inferno né delle creature, finché avessi Gesù con me, come lo aveva lei. Preghiamo Guarda, oh Padre, all'umile tua serva, la Vergine Maria, che sta davanti a te rivestita della gloria del tuo Figlio e adornata di ogni virtù e dono dello Spirito. Per sua intercessione concedi a noi di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, per giungere alla fonte dell'eterna bellezza e del santo amore. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Fioretto, oggi curerai in modo particolare la tua bellezza spirituale ed interiore, quella che più conta in questo mondo. Grazie. Grazie.